Prende ora la parola il Vice Sindaco di Bologna, Silvia Giannini. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti perché avete conseguito con il vostro titolo importanti risultati nel campo della ricerca. Peraltro devo dire che dopo tre anni di distanza dall'università per il mestiere che pro tempo ne svolgo, mi sta venendo una nostalgia crescente per la vita accademica e soprattutto per la vita della ricerca. Perché davvero credo che poter fare ricerca è il mestiere più bello del mondo. È molto faticoso, richiede grande determinazione, richiede molti sacrifici come voi sapete, ma è veramente il lavoro più affascinante, più bello e anche credo più utile per la vita, per la nostra civiltà, per la nostra città, ma per il mondo intero. Sappiamo benissimo che l'Italia è un Paese dove la ricerca è ancora troppo poco sviluppata. E sappiamo che invece la ricerca e l'innovazione sono fondamentali per la crescita, una crescita di cui il Paese ha sempre più bisogno. Perché si possa sviluppare la ricerca, l'innovazione e quindi la crescita, è fondamentale che ci sia la massima collaborazione sul territorio tra tutti gli attori che sono presenti nel territorio. Mi viene in mente cosa osservava recentemente un imprenditore relativamente al successo della Silicon Valley e di Stanford e diceva che in realtà, certo, è molto importante la presenza delle imprese, ma è anche molto importante il successo di Stanford. dipende dal fatto che lì economisti e ingegneri si siedono allo stesso tavolo, vanno allo stesso cinema, vanno alla stessa palestra. Noi abbiamo la fortuna di avere una città e un'università che sono l'una parte integrante dell'altra. Abbiamo un grande Ateneo che ha eccellenze in moltissimi campi della ricerca, in moltissime discipline. Noi sappiamo quanto è importante oggi la contaminazione e il dialogo fra le discipline. Da noi ingegneri ed economisti e tante altre discipline si ritrovano per fortuna spesso allo stesso tavolo, alle stesse palestre, agli stessi cinema. Abbiamo una città che cerchiamo di rendere sempre più attrattiva, sempre più vivace, sempre più culturalmente piena di iniziative, proprio per dare anche le occasioni di questi incontri. E per fortuna abbiamo anche un tessuto di imprese che costituiscono dell'eccellenza nel campo della ricerca. Abbiamo anche tanti nuovi progetti su cui l'amministrazione si sta impegnando in maniera particolare. Ricordo solo, per fare un esempio, anche alla recente decisione della Philip Morris di insediarsi nel territorio bolognese. Lo ha fatto non solo perché anche le istituzioni sono state capaci di lavorare per attrarre questa grande multinazionale, ma anche perché qui c'è un ateneo di eccellenza e la Philip Morris, come voi sapete, produrrà dei prodotti di elevata innovazione tecnologica. Potrei fare tanti altri esempi di progetti che riguardano la città e che coinvolgeranno sicuramente anche il mondo della ricerca, per esempio il progetto della fabbrica contadina e così via. Però non voglio sottrare tempo a tutti gli interventi che ci sono e quindi è con l'augurio davvero che questa città e tutti gli attori della città, università, istituzioni, imprese, lavorino per migliorare il contributo che la ricerca e l'innovazione possono dare alla crescita, che vi faccio i miei migliori auguri sia per tutti i risultati che avete conseguito fino ad ora, le mie migliori congratulazioni e i miei migliori auguri per il vostro futuro professionale e di ricerca. Mi dispiace solo che non siamo in piazza perché mi ricordo che nel 2012 questa celebrazione fu fatta nella piazza Maggiore ed era una testimonianza ancora più forte del legame e dell'importanza che il dottorato ha e la ricerca ha per la città di Bologna, però forse qui stiamo oggi un po' più freschi. Auguri a tutti e grazie mille. Grazie.